La classe internazionale delle danze latinoamericane è Leonora De Mignigny e Andrea Civica. Come potete vedere sono due ragazzi molto giovani, ma già hanno raggiunto un livello nazionale, internazionale e direi mondiale, perché l'anno scorso hanno preso parte anche i campionati mondiali a Pechino per quanto riguarda sempre le danze latinoamericane. Iniziano la loro esibizione.